Per Platone tutto nasce dall'idea. Se una cosa può essere pensata, questa cosa esiste e ha su di noi conseguenze positive o negative. A noi sembra invece che una realtà prima esista e solo dopo possa essere pensata e detta. Secondo Parmenide, un altro filosofo greco, basta pensare a qualcosa, sfera logica, pronunciarla, sfera comunicativa, per renderla reale, sfera ontologica. Egli afferma, infatti, che è la stessa cosa, pensare ed essere. Il pensiero, ma anche la parola che lo esprime, hanno un potere creatore, entificante. Le parole, in particolare in quanto contenitori del pensiero, possono essere risonanze incontrollabili. Le pronunciamo e nulla è più come prima. E così, la parola ha un grande potere. Può indurre negli alti sentimenti di autostima e benessere interiore, oppure di turbamento e sofferenza. La parola è una grande dominatrice, riesce a calmare la paura, a suscitare la gioia. E ciò che sostiene gorgia. Grazie. 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 Grazie.